È talmente timido e riservato che non se la sente di apparire in telecamera, ma quando davanti a lui compaiono cifre e problemi da risolvere, si trasforma in un piccolo leone. Luigi Galli, 10 anni, all'uno dell'Istituto Comprensivo Luigi Credalo di Livigno, è la punta della Nazionale Italiana di Matematica. La scorsa settimana, il giovanissimo asso della scienza dei numeri ha dimostrato ancora una volta di avere nel sangue un DNA da Einstein. Per lui, 35esima piazza, nonché primo degli azzurri, nella finale mondiale dei giochi matematici, riservata la categoria quarta e quinta elementare, di scena a Parigi. Che logica e calcoli non avessero segreti per Luigi, non si era capito già in occasione della fase nazionale, nella quale Livignasco aveva conquistato la medaglia d'oro, sbaragliando la concorrenza. Ma per Luigi, l'esperienza francese è stata più di un semplice test di valutazione. La finale mondiale, racconta, è stata l'occasione per stringere nuove amicizie con altri piccoli geni provenienti da tutto il mondo, scoprendo il vero spirito di gruppo. Dello stesso parere, mamma Elena e papà Sebastiano, che insieme al cuginetto Enea hanno accompagnato oltre Alpe e Luigi. Una manifestazione unica, sostengono, dove a prevalere sull'atteggiamento competitivo è stata soprattutto l'unione fra i compagni di squadra. A congratularsi con il piccolo genio della matematica, anche il dirigente dell'ufficio scolastico provinciale Fabio Molinari, orgoglioso dei tre guardi raggiunti dall'alunno valtelenese.